Notizie da Schio, controlli antidroga in Alto Vicentino, 10 assuntori segnalati, tra loro ci sono 6 pregiudicati. Fine settimana caratterizzato da controlli serrati sulle strade dell'area della Valleura e Valdastico, con i carabinieri della compagnia di Schio chiamati ad operare sul territorio di competenza in ottica di repressione dello spazio di stupefacenti di vario taglio, oltre che a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione anti-covid, 7 vicentini sanzionati dai militari delle varie stazioni locali impegnate per diverse infrazioni che contrastano le disposizioni del TPCM di gennaio, 10 le persone segnalate al prefetto di Vicenza per possesso di diverse quantità di sostanze illecite. Riguardo agli assuntori di droga sorprende che per la maggioranza dei casi segnalati si tratti di giovani, giovanissimi uomini già noti alle forze dell'ordine, gente che non ha perso il vizietto di rifornirsi di sostanze stupefacenti e vivere al limite del sottile tra illecito e lecito. Nel dettaglio, 6 tra loro su 10 già risentono dell'etichetta sul piano della giustizia di pregiudicati o comunque soggetti implicati in precedenti di polizia. Nel corso del weekend sono stati trovati e sequestrati 30 grammi di marijuana e 30 di hashish e 7 di hashish considerati compatibili con l'uso personale, tutti residenti a Schio e paesi limitrofe. Riguardo alle sanzioni amministrative, se trattato di persone fuori dal proprio comune, senza giustificato motivo, assenza di mascherina di protezione delle vie aeree nella maggior parte dei casi.